L'industria farmaceutica italiana si conferma la prima in Europa con una produzione industriale che supera atto i 50 miliardi di euro di cui la stragrande maggioranza export. E' una crescita che la pone nell'export prima al mondo davanti agli Stati Uniti. Frutto di competenze, di capacità di innovare a livello scientifico per produrre nuovi farmaci e a livello di tecnologia industriale. Queste sono le competenze e le responsabilità dell'industria farmaceutica, ne parleremo oggi per vedere da vicino questa innovazione, vedere le implicazioni geopolitiche ed economiche mondiali e soprattutto che cosa fare con una visione strategica chiara, veloce e competitiva.